L'inciviltà non è stata mitigata dal lockdown. L'ansia del ritorno a una vita normale, Movida compresa, all'Aquila lascia dei brutti segni. Non si parla solo di assembramenti questa volta, ma di sporcizia. Un tappeto di bottiglie di vetro vuote è stato trovato questa mattina dagli operatori delle pulizie dell'azienda municipalizzata Aquilana ASM alle prime ore della mattina. Nel cuore della Movida Aquilana, Piazza Chiarino, Piazza Santa Maria Paganica, via Garibaldi, è stato dato uno spettacolo di indecenza pubblica, di infrazione delle basilari norme del viver civile. Vetro, carta, contenitori vari abbandonati a terra negli angoli sul ciglio della storica fontana di Piazza Santa Maria Paganica. Lo sgomento è degli stessi gestori dei locali, i quali si premurano di mettere in strada gli appositi raccoglitori, che evidentemente sono stati largamente ignorati da questo maleducato popolo della notte. Una pagina amara, di mancanza di rispetto di una città e di profonda offesa di tutti i suoi bravi cittadini che nella fase di emergenza Covid hanno dimostrato un gran rispetto delle regole. Una pagina vergognosa per persone alle quali in questi giorni si chiede ancora di tenere alta la guardia per il rischio contagio. Purtroppo non finito.